Il primo tempo viene in vantaggio di 3 reti a 2, bene all'inavanti in difesa è stata leggenda. No, non siamo andati bene, a parte qualche svario di ruolo. Però non quasi devi fare movimento, Paolo. Eh, non so, ci sta, ci sta, dai, stiamo andando bene. Qualcosa da migliorare in vista del secondo tempo? Evitare distrazioni. In bocca a lupo? Ok. La maniera 3-2 per gli avversari, però siete in palla, eravate sotto, state cercando di recuperare. Sì, sì, è una partita aperta, equilibrata, stiamo giocando bene secondo me, anzi mi ritiriamo un cosiddetto in più. Spendiamo bene nel secondo tempo. In bocca a lupo. Grazie, grazie. Siamo al posto di partita tra Guatemala e Croazia, partita di rimanata, 6-3 per il Guatemala, siamo a scuola di vimpi del match di Crosta e per la squadra uscita sconfitta. Siamo a scuola di raffreddamento, siamo a scuola di raffreddamento, siamo a scuola di raffreddamento e per la squadra uscita, che è la squadra uscita. Spero che vogliamo fare di più, da questo punto di vista del risultato. Alla fine, grazie. Spero che la facciamo, mi fa bene nel campo, ma credo che queste cose la facciamo, da oltre 4-3, ci hanno fatto il campo. Nella nuova abbiamo fatto una bella partita e innanzitutto voglio ringraziare gli avversari che ci hanno fatto giocare oggi, perché i giovedì non potevano spaventare il portiere quindi grande esportività, grazie a me e a te la scuola. Il regolamento è dedicato a qualcuno? No, grazie mille. Ciao. Questa passiamo a te, buon primo tempo, nel secondo tempo può avere un quarto dove avete visto quei avversari e potranno andare anche in mancaggio poi alle quali te mostri. Abbiamo un seguito di me, abbiamo anche due gocci, siamo un po' rileggiati. E' il giocatore. Però poi abbiamo almeno seguito, non l'ha fatto. Abbiamo un po' di differenza. Si dice la parola e non si dice la parola. Allora, mi sono andato a parola. Tu interveni solo perché sono giudato, ti sta qualcosa che ti piace, tocca a farle, tu ti ha fatto nulla. Ok, Francesco invece a te tu ti dà. ride le bets. Ehm, passerissimo? Ciao!